L'idea fondamentale è questo accoppiamento che lui ha inventato, cioè Bauman ha inventato, modernità liquida, società liquida, poi ha fatto un sacco di libri liquidi perché la parola ha avuto efficacia e allora purtroppo in quest'epoca di comunicazione facilitata, di formulette orecchiabili che credono di risolvere tutto, in fondo non è che poi risolvano molto, è andata di moda e quindi lui ha approfittato di questo fatto per titolare i vari libri liquidità di questo, liquidità di quello, liquidità di quello. Ora devo dire che il termine liquido è liquido però, cioè è molto fluido, molto spuggente, che vuol dire? Che non abbiamo stabilità di valori, che cambiamo una personalità ogni giorno, che tutte le cose modificano senza che noi possiamo sistemarle e organizzarle. In realtà siamo in quello che i sociologi di alcuni anni fa chiamavano postmodernismo, postmodernità. O se dobbiamo andare al passato, quello che un noto sociologo, ma veramente rilevante, Emil Durkheim, chiamava anomia. Ora l'anomia è una cosa più profonda e meglio definibile, è il conflitto tra due situazioni di cui uno, il soggetto non riesce a venire a capo. Per semplificare, uno è ricco, poi diventa povero, poi diventa ricco, poi diventa povero, a un certo punto perde l'orientamento e non sa come deve comportarsi. Ecco, la liquidità di Bauman ricalca l'anomia di Emil Durkheim senza, devo dire, la fondatezza, la consistenza, la robustezza del concetto di Durkheim o, se vogliamo, anche, si potrebbe definire ancora meglio, neurosi sociale. Credo che questa sarebbe la vera definizione, cioè noi siamo in una società in cui se ti arriva un musulmano, se ti arriva un hinduista, se ti arriva un muddista, è ovviamente un cattolico, un protestante, eccetera, a un certo punto confondono le acque, se ti arriva uno che ti mangia gli insetti, uno che ti mangia le formiglie, uno che ti mangia le locuste e uno che ti dice che i fermifritti sono magnifici e ti metti il dubbio che la pasta con le melanzane sia invece una porcheria, insomma, si disorienta, si disorienta il cittadino. E questa è una cosa molto seria, molto seria, molto seria. Cioè il fatto che non c'è più una... Ora, la contrapposizione a tutto questo, come sappiamo, è il sovranismo, l'identità, eccetera, cosa, devo dire, molto difficile a reggere, perché in questi flussi di comunicazione, di viaggi, di immigrazione, di speculazione economica, ad esempio l'Amazzonia, ci sono le tribù amazzoniche che stanno per essere spodestate e cacciate via. Alcuni, molti, li dipendono per dipendere dall'identità culturale, della loro lingua, dei loro costumi, eccetera, eccetera, più o meno come si faceva con gli indiani, eccetera. E' difficile, è difficile, perché in un mondo dinamicissimo, di grandi comunicazione, di grandi viaggi, di grande immigrazione, di grande impegno economico di sfruttamento di zone prima non sfruttate, mantenere, devo dire, l'identità è veramente difficile. Certo, bisogna anche dire che la soluzione di Baumann sarebbe la comunità, la comunità. La comunità non mi pare la soluzione, granché, insomma. Bisogna vedere il livello della comunità. Se la comunità è volgare, insomma, non salva la civiltà, non serve a nulla. Io propongo in vari miei libri che l'unica cosa da fare in questo momento è che si mantenga un'aristocrazia del pensiero, il quale abbia la capacità attrattiva verso il popolo. Insomma, ora non è il caso di parlarne, però se non si mantiene un nucleo di grande qualità è inutile parlare di comunità.